Il Dipartimento Ambiente e Territorio ha approvato con decreto dirigenziale numero 125.09 del 2 novembre 2018 la graudatoria definitiva delle proposte progettuali ammessa a finanziamento nell'ambito dell'avviso regionale rivolto ai comuni calabresi con popolazione inferiore e 5.000 abitanti. Lo riferisce un comunicato dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale Calabrese a fronte dei 224 enti locali che hanno fatto domanda e scritto nel comunicato sono ben 154 i comuni finanziati in via definitiva dal bando con il coinvolgimento di circa 340.000 abitanti per un impegno complessivo di oltre 8,3 milioni di euro a valere sul POR Calabria 2014-2020. Abbiamo raggiunto un altro importante traguardo, ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio nell'ambito degli interventi programmati dalla Regione anche attraverso il Piano Regionale dei Rifiuti che mirano ad elevare la qualità del sistema di raccolta differenziata dopo aver finanziato i progetti di riorganizzazione e potenziamento dei servizi nei comuni calabresi più popolosi siamo pronti adesso a trasferire significative risorse per sostenere anche le amministrazioni locali di contesti dimensioni più piccole affinché possano contribuire complessivamente al raggiungimento del livello di raccolta differenziata di almeno il 65% su tutto il territorio entro il termine massimo del 31 dicembre 2020. Un impegno che abbiamo assunto assieme a tutte le comunità calabresi perché il miglioramento della qualità del sistema della raccolta differenziata è una sfida cruciale per lo sviluppo sostenibile e l'economia della nostra Regione una sfida sulla quale è necessario concentrare le forze di tutti gli attori del sistema.